Atenzione centrale, persone armate fuori dal centro commerciale, inviate ausilio. Vi invio uno streaming video. A controllo, massima attenzione, indossate i giubbetti antiproiettili per tutti. Volante 10 ricevuto? Sì, 21, la volante 10 ha ricevuto, ho già le immagini sul dispositivo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS